Galatina de Negramaro, Friends Partners e Magellan Concerts, tornano ai problemi relativi alla rete stradale prima del concerto N20 a casa del Negramaro e sottolinea sia il loro dispiacere per il pubblico che ha dovuto affrontare l'inconveniente, come così come la loro estraneità per quanto riguarda la gestione di Terod. Gli organizzatori del concerto che si sono tenuti sabato scorso all'aeroporto Galatina, dopo le controversie sulle difficoltà degli spettatori a raggiungere l'area dell'evento, tra ingorghi e codici di chilometri auto, lo hanno dichiarato in una nota. Friends Partners e Magellan Concerti hanno anche fissato l'apertura delle porte alle 16.30 per consentire a tutto il pubblico di accedere all'area concerto e, in conformità con la band, ha rinviato l'inizio del live alle 9.40, ha confrontato le ore di Toschedule 21.00, alla notizia delle code.